Abbiamo voluto centrare la nostra attenzione su una sfida che oramai non è soltanto una sfida europea ma è una sfida globale nei confronti di crimini che sono essenzialmente, lo sa bene la signora Commissario Malmstrom, sono crimini di natura economica. Riteniamo che appunto per questo dobbiamo fare in modo che queste risorse che oggi vengono acquisite illecitamente da parte dei sistemi criminali possano invece essere recuperati. Bisogna escludere le imprese condannate con sentenza passata e ingiudicata da tutte le gare negli Stati membri, gare pubbliche, finalmente attivare la procura europea. C'è bisogno di questa proposta, c'è bisogno di un maggiore contrasto nei confronti dei paradisi fiscali che albergano anche nel territorio degli Stati membri, maggiore trasparenza del sistema bancario.